ciao ragazzi sto ridendo perché vi devo veramente raccontare l'iter di questa storia tragicomica che è successa ieri cioè voi immaginate di svegliarvi alla mattina e far colazione ed è tutto normale un'ordinaria mattinata d'estate mentre state per andare al mare a un certo punto parte una videochiamata una videochiamata di un numero che non conoscevi vedi ci arnusco sulla video dico vabbè comunque rispondo non si sa mai magari è qualcosa di lavoro due ragazze che dicono ma sei tu sei michele unziker dico sì chi sei michele devi fare qualcosa tua figlia ha postato il tuo numero su instagram noi l'abbiamo visto e ti abbiamo chiamato secondo me adesso ce l'ha tutta italia io cosa dico grazie ragazzi per avermi avvisato ok operativa subito attacco il telefono e da lì in poi ragazzi non è più stato possibile usarlo videochiamate via la faccia tosta di chiamarmi a casa in continuazione messaggi ho provato a fare una stories non c'è stato più niente da fare pronto allora ho detto oddio che cosa faccio metto uso aereo cerco di riflettere come facciamo cioè quel ragazzi l'era del social è incredibile auri ha postato il mio numero un minuto esatto e dopo un minuto ce l'aveva tutta italia ma la cosa veramente divertente è stata che io sono stata inserita nelle grigliate di tutti i gruppi d'italia improvvisamente sul mio whatsapp c'era grigliata di calta nisetta poi tutti i gruppi di allenamenti i juventini scatenati le femmine c'era di tutto e di più non mi è mai successa una cosa così allora prima di tutto che bello perché vuol dire che c'è un affetto incredibile quindi io saluto tutti quelli che mi hanno scritto che mi hanno mandato dei messaggi li ho letti non ho potuto rispondere perché erano a 600.000 però vi voglio veramente bene ma non c'è stato niente da fare dopo 25 anni ho dovuto cambiare il numero comunque posso dirvi una cosa chi se ne frega sono cose che possono capitare sono cose che fanno anche un po' ridere nell'era del social una cosa così può capitare però vi giuro sono stati due giorni di un'avventura incredibile incredibile auri preparati perché prima o poi posterò il tuo numero sulle mie stories la vendetta è un piatto freddo ciao ciao anzi ci stavo ripensando il numero di auri è 3 4 8 7 7 5 3 scherzavo 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 ciao 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 ciao